Ci stiamo lavorando dal mese di agosto del 2019 all'indomani dell'insediamento e della nomina del sottoscritto come assessore. Abbiamo incontrato anche le parti sociali, i sindacati, con i quali abbiamo saputo un protocollo comportamentale di quello che deve essere fatto nella stesura del bilancio. C'è stata una celebrazione repentina perché avremmo dovuto accantonare un altro milione e mezzo di spesa per delle cervellotiche conteggi normativi che ci sottraevano un milione e mezzo di spesa. Quindi abbiamo dovuto fare in questo modo. Non abbiamo gettato nei programmi di bilancio per investimenti la Bucalossi, ma l'abbiamo utilizzata nella spesa corrente perché ovviamente c'erano disequilibri. Questa cosa ha accelerato di molto l'approvazione e il 30 di dicembre, data storica per il Comune di Pescara, abbiamo approvato questo bilancio che ci permette già da ieri di essere operativi e dare risposta alla cittadinanza. Sicuramente abbiamo le variazioni di bilancio che dovranno essere adottate per i chiarimenti che la norma ovviamente in evoluzione continua va a definire, ma anche per quelle che sono le esigenze che magari devono essere più approfonditamente tutelate sulla città di Pescara. Ma il bilancio del Comune di Pescara resta però un osservato speciale? È osservato in generale, ma strutturalmente il bilancio è la linea, il faro di guida del Comune insieme al DUP e quindi ovviamente è molto impegnativo, ne so qualcosa, ma abbiamo le spalle grandi, siamo molto determinati, sappiamo cosa vogliamo fare e lo strumento del bilancio ci permetterà di raggiungere questi obiettivi nel corso dell'anno e di iniziare le attività per raggiungere quelli degli anni successivi.